Barletta deve cambiare rotta e tornare protagonista e può farlo reagendo e trovando nuovi modelli di azione politica e nuovi soggetti capaci di incarnare il cambiamento. E' il vento del rinnovamento che arriva con il movimento civico Barletta Prima di Tutto presentato questa mattina, a rappresentare la nuova realtà aggregativa Gennaro Rociola che nel corso della conferenza stampa ha spiegato che Barletta Prima di Tutto punta a creare una nuova visione strategica del futuro. L'obiettivo è quello di definire i punti fondamentali della rinascita economica, sociale, culturale, etica e morale della città. E' inutile attendere tempi, non abbiamo nulla da attendere, la città chiede soccorso. E' una richiesta a cui persone che con me hanno dato vita a questo progetto non si vogliono sottrarre. Ci mettiamo a disposizione della città, restiamo disponibili ai desiderata. Soprattutto vogliamo intercettare, questo non so se saremo in grado di farlo, ma vogliamo intercettare tutti quelli che vogliono dire la loro e per tutta una serie di motivi non sono in grado di potersi esprimere, perché lontani dei partiti o perché hanno difficoltà o perché il partito stesso lo tiene a distanza. Barletta prima di tutto si presenta come un'associazione che intende promuovere la più vasta alleanza possibile, che mira a costituire l'alternativa non alla sinistra o alla destra, ma al governo di chi ha lavorato contro gli interessi e il bene di Barletta. L'associazione è un'associazione libera, è un'associazione aperta a tutti, è un'associazione aperta al confronto e al dialogo soprattutto. Non si va a connotare sotto un determinato colore, sotto un determinato simbolo. Noi abbiamo anteposto nel nostro simbolo Barletta. Ho detto prima in conferenza stampa che il nostro bigliettino da visita è Barletta prima di tutto. In qualsiasi momento ci verrà contestato se a quel prima di tutto non anteponiamo Barletta.